Revocato il sequestro dell'impianto funiviario del Mottarone, sono passati quasi tre anni da quel 23 maggio, il giorno dell'incidente che causò la morte di 14 persone. Nelle scorse ore i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Verbania e della stazione di Stresa, su delega del GIP di Verbania, hanno notificato al comune di Stresa, alla regione Piemonte e al liquidatore della società ferrovia del Mottarone che aveva in gestione l'impianto, il provvedimento con cui l'impianto era stato posto sotto sequestro dopo l'incidente. La richiesta di dissequestro era stata avanzata dal legale che rappresenta il comune di Stresa nel corso dell'udienza preliminare dello scorso 23 aprile. Il dissequestro della funivia è una buona notizia, attesa da tempo, commenta il governatore del Piemonte e che consente ora di proseguire le attività per arrivare alla riapertura dell'impianto a cui stiamo lavorando insieme al governo e al comune di Stresa e che la regione finanzia con 5 milioni di euro a cui si aggiungono i 10 messi a disposizione dal Ministero del Turismo. La disponibilità delle aree consentirà ora a Monte Rosa 2000, la società pubblica della regione Piemonte che gestisce gli impianti di risalita del Monte Rosa, di perfezionare la progettazione per quanto riguarda la parte muraria e architettonica e proseguire con la tabella di marcia per la riapertura dell'impianto, conclude il Presidente della regione.